Una vera razzia e tanta devastazione ad opera di ignoti è stata compiuta la scorsa notte nella zona industriale di Bellocchi in via Ugo Lamalfa. Oltre cinque aziende e attività economiche prese di mira probabilmente dallo stesso gruppo di malviventi. Intorno alle tre di notte una falegnameria, uno studio commerciale, impiantisti ed anche un noleggio di attrezzature per catering si ignora il criterio della scelta degli obiettivi. Data la loro diversità e analizzando i bottini viene da pensare ad una scelta più che altro casuale dovuta alla ricerca di facili bottini e anche con tanti per lo più, dato che sono stati lasciati sul campo custodi e attrezzature, macchinari e rame per portare via in alcuni casi pochi spiccioli. Ma ad essere salato, anzi salatissimo in questi casi è il computo dei danni, migliaia e migliaia di euro. Anche il noto pastificio montagna è stato un obiettivo dei malviventi, entrati nel quale col muletto parcheggiato dentro il capannone in retromarcia hanno sfondato un muro confinante, forse con il loro vero obiettivo, un'azienda di impiantistica idraulica ed una adiacente di automazioni. Uffici e magazzini tutti sottosopra, carte sparse per tutto il capannone, bottino scarno a dispetto di tutto il materiale presente, completamente ignorato dai ladri. Poi passando di capannone in capannone sono andati dalla no problem che noleggiano attrezzature per esterni, dove non trovando altro che tovaglie e bicchieri hanno fatto una piccola pausa merenda mangiandosi le albicocche tenute nel frico dalla titolare, ma portando via però una scala utilizzata nel successivo obiettivo, la ditta adiacente, la Metalnova, che produce dischi da taglio per macchine da falegnameria, dove hanno forzato una finestra sul retro per introdursi nel reparto amministrativo, del quale hanno portato via tre monito da pc, nuovi di pacca. E poi, eludendo le cellule dell'antifurto, sono passati al piano superiore, dove si trovano gli uffici della commercialista Fiammetta Rinaldi, mettendoli completamente a suo quadro e sparpagliando centinaia e centinaia di documenti in ogni stanza. Divelti poi con la forza alcuni sportelli di due mobili chiusi con dei lucchetti, pensando probabilmente ci fossero dei contanti al loro interno. Per finire in bellezza, poi poco lontano da questa fila di capannoni, hanno preso di mira un'azienda di una falegnameria, la CHO, alla quale hanno completamente distrutto il portone d'ingresso e dalla quale poi sono fuggiti, una volta accortisi che uno dei titolari era al suo interno che dormiva. Diciamo che ci siamo svegliati un po', sì perché tanto per quanto sia qui è una stupidaggine, non hanno preso niente, però i danni li hanno fatti. Molti danni, tutto il portone. Da dentro non hanno portato via niente? No, niente, niente. Qui di sicuro sono accorti che è caduto, non lo so cosa volevano fare. Insomma adesso badate il portone perché... Eh sì, è quello, purtroppo queste cose queste... Oggi è un giorno di festa, gli operai non ci sono, quindi... Sì, ma tanto cosa gli fai? Bisogna che prendano le misure e cominciano a fare, questi bisogna fare di su misura, perciò ho un po' di tempo, adesso cerchiamo di tamponare come si può. Eh sì, così.